Si vota oggi e domani nei 3.500 seggi aperti in Corea del Sud per il voto anticipato delle presidenziali, il cui turno ordinario è in agenda per il prossimo 9 maggio. Il Paese torna al voto dopo l'impeachment della Presidente Park Wen-ye, deposta dall'Assemblea Nazionale lo scorso 9 dicembre con una decisione convalidata dalla Corte Costituzionale a marzo. Park Wen-ye è la terza ex presidente sudcoreana a finire in carcere per corruzione. I sondaggi danno in testa Moon Jae-in del Partito Democratico con il 38% delle intenzioni di voto, seguito dal centrista Han Cheol-so con il 20%.